Dopo il sostegno firmato da 11 consiglieri regionali su 13, tutti tranne Mauro Bortoli e Roberto Fasoli, l'appello di 120 giovani dirigenti del PD Veneto e il vertice di giovedì pomeriggio tra i big del partito, la strada per la candidatura di Alessandra Moretti a governatrice del Veneto sembra spianata. E lei ha già cominciato la sua campagna elettorale contro un avversario a dir poco ostico, il governatore in carica Luca Zaia. Luca Zaia ha isolato il Veneto rispetto al territorio nazionale, ma l'ha isolato soprattutto rispetto all'Europa. Ma noi non possiamo vincere le sfide internazionali ed europee se stiamo da soli. Dobbiamo competere in un mondo globale e lo dobbiamo fare utilizzando le migliori risorse e valorizzando le nostre eccellenze. La Moretti parla già da candidata e il sostegno pressoché un'anima all'interno del partito appare sufficiente a farle saltare il passaggio delle primarie. Un orientamento che nel PD ha suscitato qualche mal di pancia. L'ultima parola la dirà lunedì la direzione guidata dal renziano Roger De Menec. La direzione regionale deciderà a riguardo, io mi adeguerò, ovviamente sono sempre stata a disposizione del mio partito, ma soprattutto sono a disposizione del mio Veneto. Ritengo che anche questa partita possa essere strategica perché il PD può finalmente prendersi una regione e governare una regione così importante. Io sarò una protagonista, una dei tanti protagonisti, perché questa battaglia la vinceremo soltanto se sapremo essere uniti. Grazie. Grazie.